che celebra questo, questo compleanno, questo anniversario, soprattutto mio e di Beppe, ma anche dei nomadi poi in definitiva, perché stasera rappresenta una mezzavita passata con le canzoni, con la musica, cercando di far capire e di far sentire agli altri che noi siamo vivi, che abbiamo delle cose da raccontare, li facciamo sentire attraverso gli amplificatori attraverso la musica, perché questo è un modo che noi conosciamo già da quando avevamo 16 anni e oggi non deve essere una specie di celebrazione come si fa davanti a un monumento, assolutamente, non voglio che sia questo, perché no, se no non lo facciamo, non partiamo neanche e non facciamo niente, non togliamo nessuna torta, non facciamo niente, invece deve essere una tappa, come per dire, stasera si festeggia il ventennale, poi fra dieci anni il trentennale, poi farà il quarantennale, poi sulla soglia dei cent'anni ci sarà meno vigoria, allora i nomadi, però ci saremo sempre, questa è la grande cosa che c'è dentro, noi ci saremo, noi ci saremo, noi ci saremo, questa è quello che c'è dentro, che fa marciare la macchina.